Gianni Colacione per LibriTV Gianni Colacione per LibriTV Gianni Colacione per LibriTV Il congresso si terrà questo sabato alle 14.30 presso l'hotel Monteverde in via di Monteverde 86 a Roma 12 ottobre Le tematiche pensi che faranno un po' da protagonista in questo congresso? Avete sviluppato parecchio lavoro anche sul web durante questo anno pensi che ce ne siano qualcuno che ha più interessato o che forse siete più riusciti a in qualche modo a provare a incidere per cambiare per riformare qualcuno invece che è stato più ostico perché l'interlocuzione è più difficile? Ma guarda, difficile rispondere a questa domanda sicuramente tra le campagne che abbiamo portato avanti le iniziative e gli eventi quella più impegnativa finora è stata la campagna sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale è una campagna che è nata a seguito di un'indagine che era stata fatta da una fondazione contro la vivisezione che rilevava come sostanzialmente la quasi totalità degli atenei delle facoltà universitarie italiane non rispettasse l'obbligo di massima pubblicità al diritto di obiezione quindi abbiamo pensato che fosse il caso di appunto fare una campagna per garantire il pieno rispetto è la piena applicazione di questa legge che è una legge importantissima totalmente disattesa ed è una legge che tra l'altro non solo dà ovviamente allo studente un diritto che è quello di sottrarsi ad attività che comportino violenza verso gli animali ma stabilisce anche che nel caso in cui per esempio relativamente ad un corso di laurea vi siano studenti obiettori la facoltà è obbligata a sopperire diciamo istituendo un corso che preveda metodi sostitutivi quindi il diritto all'obiezione di coscienza non è solo importante in sé ma è anche un modo per contribuire alla diffusione di metodi sostitutivi che spesso già esistono ma non vengono adottati per ragioni di costo o per ragioni di scarsa convenienza quindi questa sicuramente è stata la campagna più impegnativa anche perché ha comportato non solo un lavoro appunto intenso di monitoraggio dei siti internet delle facoltà e anche nel caso di Roma ispezione fisica delle bacheche delle segreterie didattiche ma poi ha comportato per esempio la preparazione di una serie di esposti che abbiamo depositato e di cui stiamo seguendo l'iter e poi appunto vedremo come andranno avanti e intanto procediamo con questo monitoraggio delle facoltà universitarie fuori Roma fuori dal Comune di Roma quindi il nostro obiettivo è diciamo di riuscire a coprire tutto il territorio nazionale Altre cose beh naturalmente oltre alle iniziative culturali che abbiamo portato avanti insomma alcuni incontri che hanno avuto un buon riscontro e che secondo noi sono importanti un incontro che abbiamo fatto a luglio con Radicali Ecologisti che è un'altra associazione che è nata poco dopo di noi e che era centrata sul tema di un dialogo possibile tra ecologisti e antispecisti questo perché crediamo insomma che sia fondamentale sia strategico per l'antispecismo per il movimento così dei diritti animali cercare alleanze al di fuori di sé ecco poi stiamo lavorando sul tema circhi sul tema circhi che è un tema complesso e stiamo lavorando con la predisposizione di una delibera di iniziativa popolare indirizzata al Comune di Roma su questo infatti di questo infatti credo che si parlerà al congresso perché una parte della mozione riguarderà proprio questo tema volevo chiederti intanto l'entità di questa diciamo numericamente parlando di questa associazione e poi come appunto vi trovavate insomma all'interno di questa galassia cioè se si era trovata anche lì un'interlocuzione interna se si era trovata poi parleremo anche dei rapporti con l'associazione Luca Coscioni però insomma questo far parte appunto di essere un astro di questa galassia ecco come come vi ci trovate beh allora intanto puntualizziamo noi non facciamo parte della galassia per fare parte della galassia propriamente intesa bisogna soddisfare dei requisiti che insomma di un certo tipo noi saremmo in teoria un'associazione tematica di radicali italiani però però c'è il problema che noi non siamo stati riconosciuti finora non siamo stati riconosciuti anche se devo dire che stando allo statuto di radicali italiani noi avevamo fin dall'inizio tutte le carte in regola per ottenere il riconoscimento quindi adesso diciamo ci è stato chiesto di apportare alcune modifiche al preambolo dello statuto noi abbiamo intenzione di farlo proprio al congresso e poi vedremo e poi ovviamente richiederemo il riconoscimento che secondo noi ci è dovuto insomma e vedremo che cosa succederà chiaramente il mancato riconoscimento ci ha in parte danneggiato per quanto riguarda la nostra possibilità di rapporto con il mondo radicale insomma per la nostra possibilità di innanzitutto di farci conoscere poi di provare insomma a contaminare la galassia radicale se non altro perché ovviamente non essendo riconosciuti non compariamo banalmente nemmeno nel sito internet sul sito ufficiale di radicali italiani per quanto riguarda comunque tornando all'associazione l'associazione ha attualmente 74 iscritti quindi se andiamo a vedere il numero di iscritti delle varie associazioni della galassia beh insomma direi che come dire una qualche consistenza ce l'abbiamo ecco senza fare nomi di altre associazioni della galassia ci sono parecchi radicali iscritti alla nostra associazione anzi adesso io non ho come dire la mappa precisa in testa ma direi che sono la maggioranza quindi mi auguro ecco che per il futuro con il riconoscimento se verrà ci saranno anche rapporti più stretti io poi tra l'altro sono iscritta anche a radicali roma ultimamente non ho molto collaborato per una serie di motivi quindi mi sono un po' defilata però sia io che sia il tesoriere siamo iscritti oltre che a radicali italiani anche a radicali roma tu mi chiedevi dei rapporti con la coscioni con l'associazione coscioni in realtà a parte diciamo rapporti di tipo personale con alcuni degli iscritti con ovviamente allora no i rapporti ovviamente a parte i rapporti personali no era perché in qualche modo le aree di lavoro si sfiorano per certi versi sono vicine tra loro per quanto riguarda la ricerca scientifica la sperimentazione animale ci sono stati delle votazioni quando ancora c'erano radicali in Parlamento ecco in questo senso volevo chiederti se c'era prescindere poi dal fare parte o meno in modo diciamo statutario o meno della galassia però se c'era stato in qualche modo una sorta di interlocuzione un rapporto uno scambio di qualche tipo insomma ma che devo dirti diciamo che sì qualche rapporto c'è stato con l'associazione coscioni in realtà è iniziato tutto più che altro con uno scontro se così vogliamo mettere nel senso che noi eravamo nati da 48 ore e abbiamo presentato una mozione particolare al congresso di radicali italiani una mozione in cui si chiedeva che radicali italiani si impegnasse a sostenere il finanziamento di metodi sostitutivi della sperimentazione animale questa mozione c'è stato poi un po' di come dire un po' di barahonda mettiamola così anche per una questione di insomma di statuto e c'è stata una discussione piuttosto accesa e la mozione non è passata non è passata però devo dire non è passata per una manciata di voti cioè abbiamo avuto se non ricordo male 74 voti a favore credo 89 contro con un numero piuttosto alto di astenuti quindi considerando che era il nostro primo atto ufficiale non ci è sembrato affatto un cattivo risultato naturalmente c'è molto da lavorare per quanto riguarda poi ecco altri rapporti con l'associazione e coscioni bene o male ci siamo venuti a trovare sì ad avere a che fare più o meno indirettamente con l'associazione e coscioni anche perché l'associazione e coscioni ha diciamo collaborato e collabora con altre associazioni pro sperimentazione animale che sono nate proprio con lo scopo preciso di difendere la sperimentazione animale a differenza dell'associazione e coscioni che ovviamente non è nata per questo scopo e ha al suo interno tutta un'altra serie di attività e di scopi però per esempio l'associazione e coscioni collaborazione con l'associazione protest italia che è nata proprio per una associazione di ricercatori scienziati biomedici nata proprio per difendere la sperimentazione animale quindi bene o male ci siamo trovati così sui lati opposti della barricata se così si può dire comunque io ho ascoltato alcuni interventi al congresso dell'associazione coscioni appena concluso molto pochi ripeto perché non avevo tempo e ho anche scritto un articolo su notizie radicali e devo dire che mi ha fatto piacere sentire qua e là qualche spunto di riflessione qualche spunto di riflessione critica sulla sperimentazione animale per esempio Spadaccia per esempio l'intervento di Luigi Manconi o di Gustavo Fraticelli che è il co-presidente che insomma in vario modo e a vario titolo sottolineavano questo problema insomma all'interno dell'associazione il fatto che in qualche modo non sia molto laico e non sia molto radicale questa presa di posizione totalmente appiattita sul fronte prospi alimentazione animale in nome della libertà di ricerca quando però appunto senza che ci siano riflessioni sul fatto che la libertà di ricerca non può essere assoluta insomma ci devono essere dei limiti e perlomeno sarebbe auspicabile che si discutesse all'interno dell'associazione su quali devono essere questi limiti a proposito di sperimentazione animale volevo farti la stessa domanda che ho fatto anche a Firo Menagallo c'è in discussione praticamente un recepimento di una normativa europea in Italia a seconda dei punti di vista la stessa domanda l'intenzione è recepirla in modo appunto più ampio o meno ampio più restrittivo o meno restrittivo ecco tu che ne pensi come andrà a finire e cosa ne pensi intanto appunto della normativa europea che si sta per recepire e poi appunto dell'atteggiamento che ci sono all'interno delle forze politiche all'interno del nostro Parlamento su questo ma guarda sarebbe un tema enorme da trattare ti posso dire molto brevemente già la direttiva europea che tanto viene sbandierata come direttiva molto avanzata in tema di benessere animale in realtà non lo è per nulla perché per ogni presunto divieto di una determinata pratica magari particolarmente cruenta esiste la possibilità di deroga quindi se uno ha la legge davvero dall'inizio alla fine si rende conto che in realtà quella direttiva permette di fare tutto la legge delega che appunto diciamo ha approvato alcune restrizioni è comunque un primo passo certo come dire difficile è vederla come un risultato molto significativo per esempio si stabilisce il divieto di allevamento di cani gatti e primati sul territorio italiano ma ovviamente nulla impedisce di importarli dall'estero quindi è chiaro che non è una direttiva che limiti in alcun modo la sperimentazione animale come al solito si spera che queste pressioni legislative progressive portino in qualche modo i centri di ricerca le università le case farmaceutiche ad investire sempre di più nella sostituzione dell'uso di animali nella ricerca e quindi si arrivi in qualche modo al risultato io poi non ho grandi non nutro grande ottimismo sul fatto che questa legge poi verrà approvata perché poi adesso la palla passa al governo staremo a vedere senti Giovanna hai accennato appunto a questa modalità di voto online per quanto riguarda il congresso ecco è molto interessante diciamo che l'ambiente radicale ha antiche esperienze di questo diciamo purtroppo poi non non proseguite nella prassi resta solo la memoria sai dirmi più o meno qualche dato su come lo realizzerete è molto importante magari potrebbe anche essere uno spunto anche per altre associazioni sì dunque noi l'abbiamo abbiamo deciso di realizzarlo con un sistema proprietario che già possedevamo perché quando abbiamo acquistato il dominio per il sito abbiamo acquistato questo pacchetto Microsoft di cui l'esperta è Teresa Dentamaro questo sistema funziona attraverso un programma che si chiama Link che consente non solo ovviamente chiamate multiple quindi conferenze teleconferenze insomma conferenze telematiche consente anche volendo di fare presentazioni online cioè tu puoi mostrare non so delle slides in powerpoint ai partecipanti connessi e consente consente ovviamente la comunicazione via chat ovviamente e consente anche il voto segreto il voto anonimo perché il nostro problema era chiaramente il voto segreto che è quello per le cariche e con questa modalità è possibile appunto usando la modalità sondaggio avere il voto anonimo e quindi è possibile per i congressisti iscritti poter votare anche in remoto speriamo che funzioni nel senso che ovviamente è la prima volta che lo testiamo speriamo che la rete wireless regga e quindi ecco speriamo che vada tutto bene esatto infatti infatti va bene in conclusione Giovanna ovviamente ti auguro un buon congresso vi auguro un buon congresso ci sarà anche LibriTV ovviamente cerchiamo ovviamente sempre sperando di fare tutto bene di fare la diretta sicuramente lo registreremo un ultimo appello e poi da voi possiamo salutarci grazie sì io allora ribadisco il nostro congresso è pubblico aperto a tutti tutti possono intervenire iscritti e non iscritti di solito le regole sono che agli iscritti sono riservati 10 minuti agli non iscritti 5 minuti quindi invito tutti radicali non radicali radicali specisti antispecisti non radicali oltre che ovviamente radicali antispecisti invito tutti a venire a partecipare a dare il vostro contributo sabato 12 ottobre 14.30 via di Monteverde 86 grazie Giovanna Devitag grazie a voi